Dan Edmond, Instant Replay, 8 e 10 minuti, questo era il Cristalistori delle 8, bentornati qui su Cristal Radio a Good Morning Milano e adesso iniziamo a parlare con la nostra ospite di oggi perché, allora prima leggo i titoli giornali e vediamo se riesce a non sobbalzare sulla sedia la nostra ospite entra in funzione la nuova vasca per non fare sondare il Seveso a Milano, questo è Milano Today del 10 di marzo ma anche il Corriere della Sera, Seveso, ecco la vasca che ha salvato, guarda, l'isola dalla piena del fiume iniziati i lavori per ripulirla dal fango Buongiorno Mattilde Minella, Comitato Novasca Buongiorno È tutto così? Siamo salvi grazie a voi, siete i nostri idoli Solo che non siamo salvi noi, anneghiamo noi No vabbè adesso a parte di scherzi nel senso, allora diciamo che da quando la vasca è entrata in funzione in realtà 10 marzo riempimento emergenziale e 9 febbraio invece collaudo generale per cui in realtà è da febbraio che siamo in ballo la nostra vita è ulteriormente cambiata ed è stata una brutta sorpresa oltre a quello che ci aspettavamo Perché allora finalmente, così dice la città, questa vasca è entrata in funzione la vasca di Bresso che ricordiamo essere una vasca, un laghetto artificiale, chiamiamolo così che dovrebbe riempirsi nel momento in cui il Seveso non ce la fa più e quindi butta l'acqua da quella parte di lì Da un po' di anni siete sul piede di guerra contro prima il progetto poi la realizzazione e ora l'utilizzo di questa vasca i giornali appunto hanno titolato Trionfante che la vasca appunto ha salvato Milano dall'esondazione, dall'inondazione delle zone non entriamo nello specifico del sì o no è stata salvata Milano che poco importa a voi nel senso che no, il vostro tema è un altro il tema è che voi vi siete sempre detto attenzione perché ce l'avete fatta sotto casa e questa cosa ci porta a dei problemi e la prova è stata che in me così è stato Sì, nel senso che l'entrata in funzione dell'impianto ha veramente reso concreto quello che noi sosteniamo da ormai quasi dieci anni ossia l'incompatibilità assoluta di un impianto di questo genere a 20 metri scarsi da un complesso di 2000 abitanti e ricordiamolo anche una materna e un nido quindi insomma target più che sensibili ricettori sensibili come si dice diciamo nel gergo e quindi diciamo che veramente noi abbiamo sperimentato che cosa significa vedere riempire l'impianto veder decantare per giorni e giorni un'acqua marrone di un livello di insalubrità che finché non la vedi così non ci credi non te la immagini così e poi vederla svuotare e rivelarsi strati di fango di quantità, chili e chili e chili di fango e detriti e rifiuti e sporcizia e poi appunto cominciare le operazioni di pulizia in teoria che dovrebbero essere salvifiche per liberare la popolazione da questo materiale fortemente insalubre e invece cominciano problemi peggiori ricordiamo che tutto quello che sta nel nucleo della nostra protesta è che comunque il Seveso è uno dei fiumi più inquinati d'Europa sotto agli standard di qualità ambientale dal punto di vista chimico e ecologico e questo lo dice Arpa Lombardia non lo diciamo noi tantissimi inquinanti chimici fattore ancora più degradante un livello di patogeni di origine fecale che soltanto lì è così alto perché arrivano tutti gli scarichi esatto fogna praticamente voi l'avete letto l'articolo del Corriere della Sera eh sì quanto vi è piaciuta quella frase che proprio in apertura dice l'odore dei fanghi depositati sul fondo del maxi serbatorio è minimo eh perché io col giornalista ho parlato ah ok il giorno prima ho parlato allora grazie Fabio di farmi questa domanda questo che è un punto fondamentale su cui stiamo cercando di fare divulgazione in questi giorni la questione puzza e odore allora al primo riempimento c'è stato il famoso odore nauseabondo che ha appestato mi guarda a bresso in un modo allucinante la seconda volta un pochino meno ma a noi interessa veramente poco te lo giuro perché l'odore è un fattore minimo rispetto a quello che noi rischiamo e che sperimentiamo anche a livello della nostra salute nel senso che l'odore di fogna sarà emergenziale in luglio, in agosto quando non puoi chiudere le finestre quando stare all'aperto è fondamentale e quindi diventa veramente eh un handicap in un certo senso ma adesso non è così ovviamente le temperature sono ancora basse l'esalazione è ridotta e quindi varia molto anche a seconda del vento dove tirano magari a una certa ora lo senti a una certa meno a volte sì a volte no ma non interessa poco e vogliamo farlo capire perché quello che ci dà fastidio anche di certi titoli è la ridicolizzazione noi non parliamo di puzzo odore sgradevole noi parliamo di un'irritazione che si sta cronicizzando delle vie aeree ossia tosse tosse ma attacchi di tosse accessi di tosse faringite, laringite gola quasi bruciante questo è la metà della popolazione l'altra metà simpaticamente congiuntivite occhi rossi e lacrimanti e più fortunati tutte e due insomma non si scherza con queste cose perché a parte il fastidio fisico questo è un campanello d'allarme vuol dire che lì dentro c'è qualcosa che esala che viene disperso durante le operazioni di pulizia che non ci dovrebbe stare che può essere il semplice fango comunque irritante che porta con sé allergeni sporcizie e quindi non deve essere respirato oppure nella peggiore dell'ipotesi anche qualcosa di chimico che potrebbe poi avere effetti ben più gravi a lungo termine quello che però mi è sempre piaciuto del vostro comitato è che sì c'è quel no davanti ma era un po' difficile non mettere una forza ma un pochini no ci sta quel no però non è che è solo un discorso di essere contrari voi avete sempre cercato un dialogo un dialogo importante un dialogo anche nel cercare di capire appunto cioè dire va bene gli odori non sono una cosa importante cerchiamo poi di capire che cosa viaggia nell'arco che cosa e su quello avete però difficoltà poi ad avere un interlocutore sì allora noi a livello politico è proprio un incubo nel senso che il comune di Milano non ascolta non recepisce niente perché il vostro interlocutore è il comune di Milano perché nonostante voi siete sul territorio di Bresso no decide tutto il comune di Milano e noi subiamo e questo è veramente abbiamo mandato PEC abbiamo avuto risposte PEC ma tutte proprio ripetere pari passo quello che noi critichiamo abbiamo avuto un interessante colloquio con invece il consigliere comunale Carlo Monguzzi che è venuto al nostro presidio dell'undici dopo il riempimento è stato molto sensibile ha cercato di portare in consiglio comunale le stanze nostre si è reso conto anche lui che aveva gli occhi rossi che gli grattavano gli bruciavano e questo sembra una piccola cosa ma è importante per noi perché solo venendo sul campo ci si rende conto appunto no Vasca no Vasca è un no che per noi è sempre stato in difesa della salute ossia Vasca come simbolo di insostenibilità e inadeguatezza di un progetto che non ha mai accettato la minima modifica per venire incontro ai residenti a tutti i cittadini ai fruttori del parco ma anche nel rispetto delle mitigazioni previste che poi noi vediamo non è che vengono molto rispettate e ok allora adesso andiamo avanti ancora un po' a parlare con te Matilde ma prima ci ascoltiamo un po' di musica chissà se quando parlava che veniva nella zona nord parlava proprio del parco nord e chissà se adesso verrebbe a cantare lì no soprattutto di Mahmood magari con tuta gold chissà se adesso verrebbe con la tuta gold con tutti i fanghi che ci sono non lo so non lo so però così diceva che quando andavo nella zona nord diceva ok chissà se era proprio lì Mahmood con tuta gold qui su Crystal Radio good morning Milano Mahmood tuta gold la vorrei vedere la tuta gold in mezzo ai fanghi non ditevi che mai gli viene in mente per girare un videoclip poi non ve la pubblico neanche attenzione Mahmood non prendere spunti da quello che sto dicendo stiamo parlando della vasca di Bresso al comune di Milano non vi ascoltano così mi dici però appunto noi diamo sempre Bresso 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 perché voi siete in territorio di Bresso e il comune di Bresso cosa fa? allora il sindaco Cairo proprio stamattina sarà in prefettura per parlare con il nuovo prefetto e chiedere di tenere aperto il tavolo sulla vasca di laminazione mettendo al centro le istanze igienico-sanitarie abbiamo avuto un confronto con lui abbiamo riportato tutte le nostre istanze quello che è successo appunto soprattutto come dicevamo sulle modalità abbastanza drammatiche di pulizia dell'invaso e lui proprio su questo vorrebbe andare a lavorare a chiedere delle migliorie perché appunto spieghiamo un attimino com'è che avviene questa pulizia cioè mi immaginavo arrivassero lì e prendessero il fango lo portavano solo dei camion e lo portavano via allora succede così prima di tutto la vasca rimane piena per alcuni giorni nel senso comunque lo svuotamento il riempimento è velocissimo lo svuotamento è lentissimo e quindi rimane e quindi rimane uno due tre giorni piena di quest'acqua terrificante insalubre poi progressivamente viene svuotata però diciamo che sul fondo rimangono quei bei 30-40 centimetri di melma per tanto tempo la croppa rimane esatto quella non te la togli per una settimana ok su questo contesto con le scogliere completamente imbrattate di fango imbrattato di fango in fondo arrivano i salvifici mezzi che sono sì con questi appunto operatori tutti bardati dalla testa ai piedi giustamente ci mancherebbe altro noi cittadini no però non siamo bardati purtroppo e questa è la mia ironia sono imprese sicuramente competenti però che si trovano a dover agire in un contesto molto particolare molto difficile e purtroppo con le lance d'acqua vaporizzano i sedimenti di fango e ce li spruzzano tutti letteralmente addosso alle abitazioni perché tu dici hai trovato spruzzi anche sul tuo balcone al sesto piano che è al sesto piano incredibile e non solo io è tantissimo 18 metri in meno di altezza più o meno sì sì ma perché è proprio il potere di questo effetto aerosol e di dispersione e di schizzo di roba insalubre ovviamente che però per assurdo anche se sembra degradante farebbe meno danno se rimanesse ferma lì ma questo noi lo diciamo da tanto tempo ma non viene recepito poi vi dicono prima ho detto che dobbiamo pulirla adesso la puliamo non vi va bene è comitato però anche voi non vi asportano ma noi abbiamo sempre detto che ARPA e ATS dovrebbero essere gli enti che decidono e dicono come ah ok 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 su ARPA me lo decidiamo perché su ARPA avete avuto un'interlocuzione con ARPA e è finita meglio di quanto pensavate benissimo questa benissimo ma ve lo diciamo fra poco perché prima andiamo con un po' di musica sempre qui su Crystal Red sempre con Moni Milano notizie ma anche musica tutto quello che fa grande la nostra Milano e tutto quello che speriamo faccia sempre meglio e più grande la nostra Milano come magari risolvere il problema della vasca di Bresso andiamo avanti pronto Ariana Grande con yes and perché quello che dite voi sì ma poi sì e sì ok va bene una vasca e va bene i fanghi ma poi come me li pulisci come me li porti via da lì spruzza tutto no dai un secchiello un paletto secchiello e portate via i fanghi da lì magari fate dei bei castelli di sabbia lo dico ad MM dei castelli di fango facciamo va bene Ariana Grande yes and yes and Ariana Grande 7 e 27 minuti siamo qui pronti ancora a parlare con i nostri ospiti ma prima c'è una piccola pausa pubblicitaria perché dobbiamo in qualche modo mantenere sui piedi la radio quindi mi raccomando anzi ascoltatela bene prendete appunti durante la pausa pubblicitaria avanti così con Diodato ti muovi Angelina Mango con la noia la noia che non c'è mai dalle vostre parti vero Mattina e Minella adesso no vasca no sono periodi molto trafelati da quant'è da quant'è che non vi annoiate più ormai eh purtroppo tanto guarda da quando si è aperto questo maledetto cantiere quattro anni sono quattro anni ormai quattro anni devono essere un anno e mezzo siamo a quattro siamo a quattro anni e il cantiere nonostante la vasca stia funzionando non è stato ancora chiuso nel senso che c'è ancora il cantiere voi non potete ancora andare alla vasca assolutamente no è tutto inscatorato nelle recinzioni ormai non ha nessun senso perché appunto con l'audo generale fatto funzionamento emergenziale fatto percorsi ciclopedonali splendenti pronti tutto pronto le recinzioni rimangono recinzioni ancora su prima parlavamo di come con le istituzioni avete però dei dialoghi vari e diversi perché appunto da una parte del Comune di Milano con cui è difficile complicatissimo dall'altra invece Arpa che vi ha quasi stupito anzi devo dire che a parte che noi nutriamo da sempre un grande rispetto di Arpa perché è trasparente ogni volta che gli si chiede un dato dopo due giorni il dato arriva si va sul sito basta sapere un po' smanettare e trovi tutto quindi la grande trasparenza e competenza sì è successo qualcosa di molto bello il 5 settembre noi avevamo indetto un presidio sempre comunicato la questura autorizzato e tutto presso la sede del Dipartimento di Milano di Arpa che ha la nuova sede dentro all'ospedale di Niguarda e niente il nostro obiettivo massimo era quello di consegnare un documento poi grazie anche devo dire a una grande mano che ci ha dato la questura presente che ha avuto un'opera di mediazione molto importante insomma praticamente siamo riusciti a farci ricevere dai dirigenti del Dipartimento e il direttore del Dipartimento di Milano è stato di una disponibilità incredibile ha fatto entrare una delegazione abbiamo fatto quasi una riunione ci ha fatto parlare e spiegare tutto da lì in poi il rapporto appunto si è stretto ancora di più perché mentre prima facevamo semplicemente una raffica di segnalazioni mediante PEC che loro leggevano e che poi hanno dato luogo anche a sopralluoghi ispezioni eccetera adesso qualcosa è cambiato nel senso che in febbraio appena prima del collaudo proprio casualmente siamo stati di nuovo accolti dai dirigenti che ci hanno tenuto quasi un'ora a spiegare le nostre ragioni e poi un risultato a cui teniamo tantissimo hanno vidimato la nostra documentazione inoltrandola proprio con la loro diciamo timbro tra virgolette insomma firma alle istituzioni di riferimento e quindi questo però è un segno di rispetto che da tante altre istituzioni non abbiamo avuto è fondamentale cosa è interessante perché appunto da una parte con alcuni si fa dire con altri invece quando poi sono tecnici quelli dell'arpa esatto è questo il punto non fanno politica da quel punto di vista si spera si spera diciamo quindi insomma qualcosa si muove quali saranno i prossimi passi adesso allora i prossimi passi sono appunto che ovviamente noi continuiamo come ti dicevo a fare segnalazioni l'ultima è partita giovedì scorso proprio su questa giornata tremenda in cui oltre alle lance d'acqua che spruzzavano i fanghi si è aggiunto un simpaticissimo mezzo che spazzolava i percorsi e poi buttava fuori un vapore marrone da un bocchettone e praticamente siamo partiti alle 7 di mattina che avevamo il particolato a 20 PM2.5 30 PM10 cioè normalissimo siamo arrivati a rispettivamente 55 e oltre 70 in un giorno in cui non c'era l'aria pesante a Milano come fate ad avere questi dati voi? perché abbiamo le centraline territoriali nel senso ovviamente hanno una validità però insomma le usiamo in modo con criterio sempre confrontando ma saranno anche magari sbagliati ma se prima sono bassi poi sono alti comunque esattamente poi le confrontiamo perché ne abbiamo più di una eccetera poi durante il cantiere le abbiamo sempre confrontate con i dati di metropolitana milanese e coincidevano e niente quindi altra segnalazione ad ATS e DARPA in cui abbiamo detto per favore sono 7 ore che respiriamo quest'aria che ci sparano anche questa polvere fermateli in qualche modo hai detto quant'era il particolato dicevi 55 il PM2.5 più di 70 il PM10 che è quello famoso che non dovrebbe superare i 50 ricordiamo che dopo dopo 5 giorni cos'è adesso mi ricordo quanti giorni dopo 5 giorni che si supera il particolato del PM10 si fermano le macchine quindi attenzione vuol dire che 70 ben oltre il 50 questo fa capire ancora per una volta quanto veramente la vostra protesta non sia una protesta solo del non mi piace avere il giardinetto sotto sopra non voglio tirare giù quell'alberello che ero tanto affezionato cioè adesso la dico male e altri comitati saranno incanzati con me per questa cosa però nel senso non è quello per voi è proprio una battaglia di salute eh sì salute e anche comunque l'aspetto ecologico che giustamente tu citavi appunto c'è l'aspetto più ambientalista come dire il verde non si tocca mai che è anche giusto e noi lo condividiamo ma in questo contesto il controsenso della grande deforestazione che c'è stata è che comunque quei 4 ettari rendevano l'aria diversa adesso senza quei 4 ettari e abbattuto anche il filare degli arberi secolari che non andava a confliggere con la vasca e non abbiamo assolutamente capito perché hanno voluto abbatterlo lo stesso noi ci troviamo senza nessuno schermo ed è per questo che poi si raggiungono questi livelli di inquinanza perché è un filtro ricordiamo sempre le piante non è solo un discorso di abbracciamo gli alberi perché li vogliamo muovere agli alberi fanno da filtro spesso con le radici sotto in modo che la terra rimanga ferma non ci sono gli smottamenti perché adesso non ci sono smottamenti però nel senso comunque fanno quello e fanno filtro sopra sì e certo infatti noi avevamo chiesto in tutti i modi di mantenere almeno quel filare consci del fatto che una vasca di liquami comunque avrebbe esalato non si sa che cosa perché ricordiamoci il famoso effetto cocktail io so cosa immetto ristagna i composti reagiscono non so cosa respiro eh sì parliamo di reazioni chimiche esatto solo facendolo è un esperimento molto probabilmente questo sembra purtroppo questo sembra noi stiamo reagendo già abbiamo delle reazioni purtroppo la cosa che prima io prima ho chiesto una cosa fuori onda che però vorrei ripararsi anche adesso beh ma non sarete gli unici in Italia dove potete stare per una vasca di liquami chissà quante vasche ci sono simili distante a vedere le altre vasche allora di vasche allora in realtà non è che sia una roba molto praticata ormai perché è veramente vetusta tra virgolette per cui ad esempio in nord Europa così viene guardata come una cosa proprio tremenda però ce ne sono ovviamente ad esempio quando si è parlato delle enormi nubifragie esondazioni in Veneto recentemente sono state citate alcune vasche molto grandi che avevano volumetrie molto superiore alla nostra che è impattante ma in realtà è piccola rispetto a queste altre che avevano avuto un sembra un effetto e lì vabbè certo si può parlare di impermeabilizzazione e consumo di suolo ma la differenza sta che sono in aperta campagna e quindi i loro impatti sono ovviamente filtrati attutiti da una folta vegetazione e da uno spazio di centinaia e centinaia di metri che separa dai centri abitati e noi qui parliamo di 15-20 metri 30 quando va bene è quello è quello la differenza è quella quindi insomma ancora una volta se avete bisogno di capire come il comitato lavora il comitato è andato a cercare il comitato ha cercato in altre zone per capire come succedeva e non avete trovato nulla di simile alla vasca di Bresso infatti la nostra vasca va in deroga su tutto è andata in deroga della distanza cimiteriale ad esempio c'è una legge del comune che prevede che praticamente non si possa scavare oltre i credo 150-200 metri da un cimitero per ragioni di rispetto ovviamente ma anche di salubrità e siamo arrivati a meno di 50 metri votato in deroga proprio l'andata in deroga votata forse l'ultimo consiglio comunale della prima giunta di sala se non erro praticamente questa cosa già era stata anche segnalata da TS questa durante la via come una cosa che non andava bene in deroga della fascia di rispetto del fiume perché in teoria c'è una fascia di rispetto di circa 30 metri ma ancora più stringente di 10 metri lungo l'argine di un fiume che non si può toccare in deroga anche quello tutto per pubblica utilità però noi ci chiediamo questo cantiere è da 4 anni che è ancora in atto per cui tutta questa pubblica utilità questa urgenza poi in realtà è strinsecata in una serie di ritardi e di anche insomma farragino funzionamento piuttosto farraginoso a parte appunto tutti gli impatti e la devastazione che è ambientale e anche igienica che stiamo sperimentando va bene allora Matilde rimani qui con noi così poi ci dai tutti i contatti anche vari per potervi seguire e se ci sono anche dei prossimi appuntamenti andiamo prima invece con un'altra canzone parliamo di Anna Lisa con sinceramente qui alle 8.43 minuti Good Morning Milano a fra poco adesso vi diciamo anche come fare se volete andare a dare una mano al Comitato Novasca Anna Lisa sinceramente 8.47 minuti siamo quasi in chiusura con il nostro ospite ma prima di salutarci Matilde devi dirci un po' tutte le coordinate per seguire il Comitato Novasca e se ci sono prossime iniziative allora coordinate sempre le stesse pagina Facebook Bresso Novasca pagina pubblica dove noi mettiamo tutti i nostri annunci sia su quello che facciamo quindi ci potete raggiungere ma anche su le segnalazioni e in tempo reale vi facciamo vedere cosa succede nella Vasca quindi video foto tutto in tempo reale allora i nostri prossimi appuntamenti sono noi ormai da mesi facciamo circa ogni 10 giorni un presidio o sul lato di Via Aldomoro lungo le recensioni Milano oppure sotto casa nostra recensioni Bresso quindi andiamo un po' di là e un po' di qua per farvi vedere i vari lati della Vasca tempo permettendo sabato 23 dovremo essere lato Bresso a protestare perché chiediamo la rimozione delle recensioni e la riconquista del territorio da parte dei cittadini poi una volta rimosse le recensioni tutti insieme andremo a esplorare la Vasca e ovviamente vi inviteremo insieme a noi una bella gita nella Vasca va bene chiamiamo Alex Britti a cantare la Vasca andiamo a vedere se va a un concerto nella Vasca mi lavo mi asciugo non credo meglio di no meglio di no però insomma seguite quello che fa il comitato Novasca è interessante appunto anche tutta la parte molto tecnica che avete tra di voi appunto fate anche delle ricerche fate anche dei dati non è solo appunto ripeto no sotto il mio balcone anche se effettivamente non è proprio il massimo no devo dire che tu sei passata in cinque anni dall'avere sotto il balcone cosa avevi prima? quattro ettari di area regionale protetta paradiso di biodiversità una cosa meravigliosa forse motivo anche per cui hai preso quella casa lì forse sì adesso c'è una bella vasca vuota perché poi il più delle volte è vuota c'è 30 centimetri di acqua di falda mischiata ai residui dei fanghi che è un elisir fantastico di lunga vita quindi neanche fosse vuota almeno ci va detto quello skateboard neanche quella una bagnarola una bagnarola che si può riempire da momento all'altro senza previso arriva questa ondata marrone si vede proprio che scende dalla diga e poi sale 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 diventa tutto orrendo quando avete visto che si stava riempiendo l'altro ieri la settimana scorsa quando è successo sì è stato proprio infatti abbiamo messo anche le foto sulla pagina facebook abbiamo visto questo laghetto azzurro che veniva inondato come da questo tsunami marrone che poi prendeva piede come un'ondata e poi saliva appunto nell'arco di due ore la capienza di metà che era il massimo per quel riempimento era raggiunta beh insomma questo è quanto succedendo adesso date un'occhiata appunto alla pagina facebook dove ci sono foto video c'è tutto leggete anche i giornali così potete poi fare il raffronto tra chi dice una cosa e chi dice quell'altra e vedremo poi come andrà a finire perché sicuramente non finisce qui questa storia non può finire solo continuare purtroppo purtroppo giusto Matilde grazie mille di essere qui con noi ancora una volta grazie a tutti grazie mille grazie sempre al comitato per raccontarci quello che succede bene lì e noi siamo qua se avete bisogno noi siamo sempre qua grazie mille grazie ancora a Matilde e a Milena al comitato Nova Asca di Bresso andiamo avanti con un po' di musica prima di salutarci sono cinque ragazze che hanno fatto girare la testa tutti quanti secondo me anche Matilde ti piacevano all'epoca si più take that però a teori più da take that giustamente io più da Spice Girl invece perché adesso ascoltiamo le Spice Girls con Viva Forever Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille